Serata conclusiva a Marianopoli del Gneste edizione 2017 nella serata del 15 luglio 2017. 120 ragazzi partecipanti al Gresti e una sessantina di animatori. Il coordinatore e l'organizzatore padre Massimo. Il coordinatore e l'organizzatore padre Massimo. Il coordinatore e l'organizzatore padre Massimo. A Marianopoli 15 luglio 2017 chiusura del Gresti. Il coordinatore e l'organizzatore padre Massimo. Grazie a tutti. Serata conclusiva a Marienopoli edizione 2017 del Gresti parrocchiale. 15 giorni di impegno per gli animatori. E ora, a Dio piacento, la rivederci al prossimo anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.